Buongiorno ragazzi e bentornati nel vostro Stato di Carmo, ecco siamo tornati fino a vedere un nuovo video, siamo tornati eccezionalmente proprio sul chest opening di Clash Royale perché siamo tornati, anzi sono tornato in arena ex leggendaria, insomma arena del cinghiale, monte cinghiale e ci andiamo subito a sbloccare questi baulots, via, subito, subito, come se non ci fossero domani tanto questi bauli omaggiare appunto il domatore salta fuori perché l'ho nominato adesso nomino i goblin lanceri, vediamo dai, cacciameli fuori, oh, quasi, quasi, vabbè facciamo subito bauli giganti, dai a sto giro facciamolo così, bello proprio, oh, mini pecca, una epica niente, 252 skate, madò, madò, è una cimitero questa, equivale a una cimitero ok, altro baule gigante, su, oh, parte subito così, grande con lo scherettrone che mi serviva sbarbarelli, va bene, ci sta, baule della corona, dai, per non fare mai male, 533 gemme, sgherretti buoni, barbari un po' meno, o goblin c'è il bottaniere che è overpower golem, potrei darmi un'altra epica, però va bene, ok, adesso andiamo un po' al pezzo forte baule magico, dai, dai, una legend, una leggendaria, ti prego, cavaliere, mmm, goblin lanceri che l'avevo nominato prima, di nuovo il domatore, il cannone, niente, niente leggendaria, il pecca, potete darmi un'epica che mi interessa, per favore, dai, io almeno in questo baule, ti prego, attenzione, attenzione, barbari su barbari, io direi a sto punto, le comuni direi che sono finite, dai, finisci, guarda che sei stronzo, quanto sei stronzo, dai, almeno gli scheletrini che mi interessano, almeno quello, bastardo, 20.000 carte comuni, aratemele da, ci andiamo a migliorare anche la gang di goblin, la portiamo a livello lunch, mamma mia, 20.000 di ora che partono così, mamma mia, grande però, grande, adesso manca solo il bombarolo, dai, bombarolo, manca poco, e dopo ci sarà l'ultimo livello, proprio, mamma mia, il bombarolo maxato, davvero fantastico, allora dai, ci facciamo questa partitella, giusto così, dai, per concludere in bellezza, il chest opening, magari salta fuori proprio un baule posto, bello, bello, proprio, e ci sta, tanta roba, ah, lui parte con la lapide, attenzione, non dirmi che è mirror match questo, eh, ti prego, oh, ok, non ha le mie stesse carte, meno male, attenzione, il mastino, eh, proviamo così, dai, rischiamola, rischiamola un po', andiamo a vedere se mi piazzerà qualche cos'altro, ah, ah, pure, anche la gang di goblin, eh, però di livello molto più basso, io invece questo te lo faccio girare di là, bello che è morto tutto, l'ha esploso, brava, l'awakbar, come gli mastini che adesso moriranno, perfetto, e noi siamo messi benissimo, ci siamo difesi, e l'abbiamo anche cacciato un po' di danno, lui ha sciupato le frecce, e quindi vado subito con l'orda, come se non ci fosse un domani, anche l'orda da migliorare, ah, bravo, bravo che sciupa anche la lapide, e andiamo subito di scheletrone, adesso che non ha nulla per fermarmi in teoria, dai, dai, mua, tanto il tuo sgherro non farà nulla, il tuo mega sgherro, ah, è vero, c'aveva anche la gang, la gang che non si infama, vabbè, dai, ci sta, dai, in extremis, in extremis si è salvato, ok, adesso mi raccomando, ripartiamo subito alla grande, aspettiamo un attimo, intanto vado alla gente che deve sempre stare lì a scrivere buona fortuna, mandare le faccine, invece che perdere il tempo in quelle cose lì, gioca, grazie, attenzione, parte da giù di sotto con il mastino, come di, ma adesso si piassa il draghetto, eh, falla faccina, ridi, ridi, coglione, adesso ti vado sul culo, guarda, adesso tanto lo facciamo girare il mastino, lì, stai tranquillo, ah, ah, attenzione, ha tirato la fulmine, però ha fatto partire soltanto un fulmine, cioè, proprio la fulmine che gli ha fatto solo un fulmine, sembra tipo un, una specie di scioglilingua, ok, il rimanente della gang di goblin con il draghetto vicino, aspettiamo un attimo, ah, vedi, vedi, io lo sapevo che deve appiazzare qualcosa, doppia lapide, for security, che non fa mai male, ah, infatti mi sembra strano che non avesse tipo una mongolfiera o qualcos'altro di volante, perché di solito la gente che usa mastino c'ha anche la mongolfiera, insieme, beh, gli facciamo fare un po' di danno a la mongolfiera, tanto cazzomene, ah, ah, quindi hai cambiato giro, eh, cambi proprio zona d'attacco, va bene, va bene, ripartiamo così, dai bombarolo qua, bravo, fammi a distruggere la possibile lapide che infatti l'ha già messa, intanto distruggiamo anche quel mastino lì e tutto il resto della roba che ci farà là attorno, grande, che le tirate troppo in anticipo le frecce, così le asciupate, lì muore tutto, noi ripartiamo con gli schelettrini che aiutano anche il moschettiero a non subire danno, ah, tira la fulmine così adesso non c'è più elisir, bravo pirla, intanto gli schelettrini che danno i loro colpettini proprio così, vai bombarolo fa un po' di pulizia, draghetto ti sei fatto ammazzare da un mega sgherro così, no sense, intanto gli sgherretti arrivano, e noi li facciamo sempre così, cioè alla fine cazza sempre le frecce male lui, e subisce danno, subisce danno, subisce danno, dai eh, dai portate la casa, che palle devo fermare, staccavo la mongolfiera, dai 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 si, 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 t'ho anche fermata la mongolfiera, merda, non puoi competere contro questo mazzo assurdo, baule d'argento, vabbè dai sti cazzi bene ragazzi, questo video può finire qua, io spero che questo vi sia piaciuto, lasciate tantissimi like qua sotto, lasciate tantissimi like perché dai per la prima volta, dopo tantissimo, cioè davvero dopo mesi e mesi, non ho trovato nessuna leggendaria, è davvero da mesi che in un cesto opinione, perché di solito almeno una, due, così le trovo sempre, sempre, stavolta dai ci sta, per una volta che non si trova niente, nessuna leggendaria, dai ci sta, però comunque gran partita l'abbiamo inventa proprio questo mazzo, mamma mia, adesso ci farò comunque un video, cioè perché è assurdo, come al solito ricordo il link sotto in edizione per seguirmi, il link di Instagram, il link anche della valutazione del canale sotto in descrizione ad acquistare, mi raccomando, spese, disposizione gratuite, dai raga, noi ci siamo in un prossimo video, mi raccomando, stay tuned, stay pattern BALA